Come sei a letto e non rispondi gli sdraiacami? Sono... Molto attivo Ma chi sei? Penso bravo Anch'io sono molto bravo Io lascio rispondere ai commenti che mettete qui sotto Ma io sei in un avverbio Se è un avverbio Leccante Tu siete bravi ma hai mai fatto cilecca? No, mai Sei culturante? Sì Anch'io mi sembra di sì No, mai No, ce l'hai capito A che età la prima volta? 16, 17 16 anni 15 Io 17 18 Mai fatto su un prato? No No Sì No No Al cinema? No No Non proprio No Era un preliminare? No Su una spiaggia? No Sì No Sì Io no Vicino ma al trenno Ci sono due Due e mezzo Ci decca sul trenno Che voto vi date come musicista? Aspetta Come il malato Ha detto musicista Per musicista 10 Modesto 9 C'è sempre da imparare 8 8 Come amico 10 8 11 8 8 8 A letto Dovete dirlo voi 9 9 Dovete essere single 10 Più Polla Amador Io Un numero talmente Grosso Che non Non quantificavo Inventato 8 Io Da 0 a 10 10 Pensando per un attore Come studiante? 9 8 6 meno 2 9 Chi è il più tirchio? Io Secondo me non c'è un tirchio Anche secondo me Non so Pimpo No Nessuno Nessuno Per maloso? Diego Secondo me Diego E te anche il povedino Sì per maloso Secondo me Siamo un po' tutti Sullo stesso livello Sono sincero Sono sincero Chi più chi meno però Forse il Garzia è il meno per maloso di tutti Poi gli altri Siamo lì Secondo me Io Secondo me Confermo Confermo di Alba Arrapato? Io 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 Enrico Io Più di tutti voi E il matto? Io C'è un vero No No Io Io il Garze Tutti in psichiatria Il più paranoico Diego Pieri Diego Pieri Diego Pieri Giocano su Ognuno che è in questura Ha voluto rimarcare Pieri Pieri Già 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 Gli